benvenuti ragazzi a un nuovo video di passione fishing planet dopo un paio di settimane di pausa ci siamo ritrovati per andare avanti con il nostro progetto di del san crua finire il san crua e per poi finalmente poter andare avanti fare le nostre live e così via allora ragazzi oggi è la giornata particolare della pesca al mostro quindi noi ci troviamo con appunto l'ultima puntata del san crua con la pesca al la cattura al maschi golem allora la cattura al maschi golem che prevede come tutte le catture dei mostri un una preparazione praticamente è suddivisa in questa maniera la prima parte quindi la preparazione è trattasi del dover trovare più che catturare un tot mi sembra cinque pezzi di lenza grovigliata che poi è più o meno la stessa preparazione che si può trovare per il madei buffalo praticamente il pesce bufalo dall'occhio pazzo che poi è il mostro del lago non stare il primo che poi andremo ad affrontare anche quello partiremo dalle radici e per poi dopo avere questa questa esca che si chiama esca golem che non è altro che un jack by un crack by più che altro abbastanza grosso per la cattura di questo maschi golem di interessanti dimensioni allora prima di andare avanti io direi di passare al all'introduzione all'intro del nostro monster catch series e poi andiamo in pesca vai eccoci allora e questo è la nostra nostra mappa di gioco il nostro pianeta allora che cosa mi sono portato che cosa mi porterò dietro prima di andare direttamente sul lago allora innanzitutto vi faccio vedere l'inventario che è composto da cinque canne su sette ma della quale soltanto la quattro e la cinque sono state equipaggiate due canne a spinning stiamo parlando della guaraio e della rivertex zeus che sono inizialmente equipaggiate con delle esche indifferenti cioè indifferenti l'esca che mettete perché quando dovete catturare i pezzi di lenza grovigliata tra le mangrovie tra le erbe quello che è l'importante è che sia un'esca che aggancia qualcosa poi che sia un'esca morbida un'esca rigida alla fine lascia il tempo che trova dicevo queste due canne che hanno comunque una potenza di tiro abbastanza importante per esempio la rivertex zeus da otto chili e mezzo a ventuno chili mentre la guaraio ovviamente una canna molto più avanzata da 17 a 33 per facilitarci la vita la nostra barchettina e niente non c'è altro da fare andiamo verso anzi prima attiviamo la nostra missione come potete vedere lago san croix lago lago san croix esca golem arthur smith un pescatore locale dalla barba bianca sembra aver capito come ti è l'attenzione del maschi golem arthur è troppo vecchio e stanco di catturare lui stesso il mostro ma è disposto a darti la sua esca segreta golem in cambio della pesca di vecchi pezzi di lenza vecchi pezzi groviati di lenza che contengono i suoi cucchiaini preferiti che ha perso nel corso degli anni durante la pesca quindi viaggio verso lago san croix ah no non 5 ma 3 pezzi di lenza grovigliata ma uno già ce l'abbiamo quindi arthur smith è già a posto quasi facciamo alla svelta monitoriamo la nostra missioncina andiamo al san croix e andiamo in viaggio come ho stato se ragazzi non mi passa come mai ovviamente faremo la nostra sessioncina privata a numero chiuso cioè io e basta e poi decideremo come affrontare la cosa quando si tratta di pesca di oggetti d'acqua è sempre un po' un po' particolare la cosa perché comunque state la pensate di prendere il coso invece riprende la lenza invece ha preso il legnetto e una rottura delle palle comunque ci andiamo con la barca perché comunque la nostra barca ci servirà e la zona di pesca sarà sempre quella dei maschi dei maschi dei lucci eccetera eccetera mentre aspettiamo il caricamento che poi veramente è bello e fatto no non ci interessa comprare niente grazie mille allora dicevo mentre aspettavamo il caricamento che però è già passato vi dico che potenzialmente potenzialmente la prossima volta noi faremo una missioncina cioè una missioncina affronteremo le acque del prossimo video del rio delle amazzoni metto la M di mappa perché se no mi perdo affronteremo le acque del rio delle amazzoni in modo da poter da poter cominciare a intravedere per bene perché l'unica volta l'abbiamo visto praticamente in live questo fiume, questo glorioso fiume per poi dopo la volta successiva fare la nostra live allora siamo quasi arrivati eh buono 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 butta ancora allora questa è la nostra zona noi adesso dobbiamo solo prendere i pezzi di lenza aggrovigliata ne abbiamo uno su tre ce ne mancano due quindi andiamo a pescare in mezzo alle mangrove abbiamo già preso qualcosa può essere una foglia come può essere pezzi di lenza come può essere qualsiasi cosa e abbiamo preso erbaccia allora vediamo due pezzi di lenza oh ecco qua conserva siamo a due l'ultimo pezzo di lenza poi vi dico dove li sto procurando a parte il fatto li potete prendere un po' ovunque un po' ovunque ci siano erbe erbacce canne cannicci canneti tutte queste cose qua questi ostacoli d'acqua naturali e l'ultimo pezzi di lenza aggrovigliata con erba conserva e siamo arrivati al nostro obiettivo avere l'esca golem eccola qui ricevere e così via adesso noi andiamo a monitorare la nostra missione ecco qua ha aiutato il vecchio piscatore a trovare i suoi cucchiaini perduti da tempo e in cambio ti ha dato un'esca speciale segreta golem che una volta usava sul maschi golem quel giorno il mostro prese davvero l'esca ma poi riuscì a staccarsi dal lamo ora hai la possibilità unica di provare a catturare questo leggendario mostro da 35 eccoci qua vi faccio anche vedere dove ho preso questi pezzi di lenza praticamente nella zona della cattura dei maschi in questo punto qua andate a tirare in mezzo alle erbe in mezzo alle mangrovie e vedrete che il risultato è assicurato allora innanzitutto ci spostiamo con il tempo proverei nella zona serale dalle 15 alle 19 io l'ho messo verso le 16 per provare nel caso di notte perché non mi ricordo se abbocca solo di notte allora tempo in avanti eccoci qua la prima cosa da fare da ricordarsi sempre è di togliere l'ancora perché il golem tira e poi andiamo alla cattura del maschi golem nella speranza di riuscire a portare da noi questo ragazzone come volete vedere è un cranbite normalissimo soltanto soltanto che ne avete uno solo ragazzi eh non ne avete una marea ne avete uno solo di 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 esca golem è un 28 grammi 8.0 quindi ragazzi eh se lo perdete dovete riprendere le le lenze non 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 ve regalano niente abbiamo agganciato qualcosa eh mi sa che potrebbe già essere lui addirittura potrebbe già essere lui il ragazzone anche perché noi stiamo ah beh a parte fatto stiamo pescando con la brutus quindi eh sicuramente non è la guaraio come dicevo prima vediamo un po' vediamo un po' eccolo è arrivato immediatamente ragazzi subito subitissimo è arrivato eccolo qua eccolo qua anche con la brutus non ho avuto problemi eh la brutus scusatemi con la con la zeux zeux con la zeus allora un maschi golem da 39 chili 165 eh centimetri 165 centimetri eh un bel pesce vorrei vedere tutto tutto sforacchiato tutto sforacchiato andiamo andiamo a fare anche la 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 foto di questo pesce così rimarrà nei cuori e lo conserviamo ci ha fatto anche salire di livello ci ha fatto salire di livello eh 4379 eh crediti lui lui più quelli che ti danno per il complotamento della missione che sono 9700 più o meno crediti e in più siamo saliti di livello ricevere ecco qua livello 42 abbiamo sbloccato il sander quindi prossimamente andremo a pescare a carpe ovviamente dopo il il l'amazonian maize e soprattutto dopo la live ci organizzeremo ci organizzeremo e così via allora ragazzi perfetto il la missione è terminata la missione è terminata direi a questo punto che vi posso far vedere rivedere le zone perché fondamentalmente si concentra qui la pesca dei maschi del maschi golem della ricerca delle lenze aggrovigliate per ricevere l'esca golem che oltretutto come tutte le esche che voi prendete speciali diciamo per la cattura dei mostri vi rimane e l'esca golem è anche buona per continuare a prendere maschi anche di un certo livello di un certo di un certo peso certo di mostri ce n'è uno e e niente allora quindi a questo punto io direi che possiamo tranquillamente passare in pre eccoci qua guagliuncelli allora non è stato un video particolarmente lungo perché comunque era è stato abbastanza semplice siamo stati fortunati a prendere al volo il maschi golem perché se no di solito fa fa un po' di fatica si fa un po' di fatica a catturare i mostri non sono cose così istantanee poi un po' per volta affronteremo anche gli altri mostri infatti vi volevo anche dire che dopo la live dopo la live e dopo i video facciamo una diciamo una scalata verso verso i fiumi il fiume è un attimino più corposo del momento cioè non il più corposo perché non è il Congo però insomma il rio delle Amazzoni sapete dove c'è lo squalo le arapaime i pesci un attimino più eccitanti ci andremo a dare una calmata almeno diciamo finché non esce qualcosa di più particolare per esempio stiamo aspettando se lo avete visto se siete nel nostro canale Discord prossimamente uscirà una nuova mappa su un fiume che adesso non mi ricordo il nome ma mi sembra un fiume della Mongolia qualcosa del genere o indiano adesso non mi ricordo comunque un altro tipo di fiume un'altra mappa quindi altri pesci altre attrezzature quindi per un pezzo non ci sarà qualcosa di nuovo e allora invece di inoltrarci in un altro lago altre missioni altre cose per un periodo per un periodo non vuol dire 14 video però per un periodo 2, 3, 4 video faremo scuola di Fishing Planet cioè praticamente inizieremo dalle basi inizieremo dalle basi su Xbox perché è lì che ho il personaggio un attimino meno livellato diciamo così parleremo dei primi laghi dei primi fiumi anche i primi mostri come per esempio la Dendroamia o il per esempio dei Buffalo vedremo un attimino come approcciarsi dall'inizio a questo gioco perché c'è chi ha chiesto giustamente qualcosa di più basilare per chi non ha la possibilità di arrivare a fiumi o a laghi importanti perché è ancora a livello molto basso e vorrebbe insomma livellare un pochettino si parla di 3 2 3 video poi ritorneremo a fare non lo so il Makumaku il Marun il Congo poi riprenderemo un altro po' così un altro po' di scuola poi un altro così insomma ci alterneremo e il prossimo video sarà sulla sul rio delle amazzoni inizieremo con le missioni del rio delle amazzoni per poi andare in live quindi fra due video ci sarà la seconda live ovviamente lo saprete nel prossimo video quando la live sarà attiva e niente allora ragazzi dopo tutta questa chiacchierata mi si è seccata la gola veramente miseria allora dicevo se siete interessati c'è il nostro canale discord dove potete trovare tanti nuovi pescatori e vecchi pescatori e amici amici di console amici di pesca dove ci si può scambiare opinioni ci sono foto si danno consigli ci trovate la trovate me ora ultimamente non sono stato tanto attivo però trovate anche me vi potete unire tramite il link che trovate nella descrizione del canale del canale youtube o sotto i video comunque la descrizione dei video o almeno di alcuni video ci dovrebbe essere se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like di condividerlo di iscrivervi al canale e di unirvi come ripeto al nostro discord noi ci vediamo la prossima volta con l'amazon l'amazonian maze ciao aio